Ben tornati su Ciper TV, 25 novembre 2019 lunedì, oggi inizieremo costruendo un set pesante di 3 power clean a seguire 5 round 4 time, 10 power clean e 15 oppure 10 calorie sulla Asal Bike Pese e scalature, sulla grafica è tutto per oggi, ci vediamo domani, buona giornata e buon divertimento